Cristo è in mezzo a lui e viene dentro di lui. La nostra vita può cambiare con lui. Come Santa Lucia riceve occhi nuovi per vedere ogni cosa con lo sguardo di Dio. Questa è la nuova luce che genera serenità e pone in cui tutti i nomali nel mistero di Dio che penetra la nostra storia di ogni giorno. La nostra vita può cambiare con lui. 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 la nostra vita può cambiare con lui.